Un atto di vandalismo inaccettabile, quello accaduto al cimitero di Rosciano dove i residenti hanno scattato queste fotografie pubblicandole sui social, una distesa di fiori e vasi gettati a terra. Questi scatti hanno fatto il giro del web, su Facebook sono stati commentati da decine di cittadini indignati per il gesto, così come è successo nella nostra pagina Reporter di strada. Questo scempio però non è accaduto nella città di Fano come molti hanno pensato, bensì nel cimitero di San Silvestro a Rosciano, un comune di 3.800 abitanti in provincia di Pescara in Abruzzo. Un allarme dunque ingiustificato che nulla a che vedere con questa situazione e oggi a fare alcune precisazioni è l'assessore ai servizi cimiteriali Cristian Fanesi che in questi giorni ha ricevuto chiamate continue da colleghi e cittadini. Si trattava di una bufala, una bufala però presa molto in considerazione da tantissime persone che magari non conoscendo bene il cimitero di Rosciano di Fano hanno pensato si trattasse davvero di un cimitero cittadino, non era così per fortuna e quindi ha creato questa notizia tanto scompiglio in città, persone che hanno chiamato giustamente in comune, qualcuno allarmato, qualche post addirittura esagerato. Non era il cimitero di Rosciano di Fano, tranquillizziamo tutti anche perché si tratta di un tema molto sensibile che coinvolge le persone anche se magari non frequentanti quel cimitero ma magari che hanno un carro defunto in quel cimitero hanno pensato fosse davvero frutto di un atto di vandalismo quello che era stato pubblicato su queste foto, su questo post, non è così. Quindi possiamo tranquillizzare tutti. Non era così, la notizia purtroppo non era stata verificata da chi aveva divulgato il post mentre noi ci siamo subito allertati come amministrazione per anche dire che non era successo niente e anche per verificare magari se ci fosse sfuggito qualcosa. Non era così, il post fra l'altro era vecchio di qualche giorno fa ma è stato rinanciato con talmente tante condivisioni che ha creato in città anche una situazione di attenzione e sicuramente di perplessità rispetto a questo evento. Il cimitero di Rosciano è un cimitero in forte espansione che ha un bacino molto ampio, Rosciano, Bellocchi e non solo Rosciano quindi siamo intervenuti, l'abbiamo reso allargato, abbiamo fatto un nuovo padiglione Loculi. È un cimitero quindi dignitoso e va tutto bene, insomma in ordine, chiaro che mancano alcuni piccoli lavori, mancano alcune piccole cose che entro l'anno sistemeremo e quindi per il resto, insomma, grazie anche alla gente che lo frequenta, come dire, lo rende anche più vivo di quello di altri cimiteri è sicuramente un cimitero in ordine pulito e funzionante.